Ok, eccoci qui. Allora, ciao a tutti. Questa è la seconda parte di Victor Vlan. Abbiamo mollato, abbiamo smesso di giocare all'incirca dove si è fermato il video, quindi non vi dovreste perdere nulla. L'unica differenza è che abbiamo chiuso e salvato, quindi mi è che un po' di mostriciattoli sono responsabili. Adesso andiamo ad ucciderne un po'. Io devo accumulare rabbia per usare i dieci poteri demonici per fare l'obiettivo di questa zona. Victor? Well, that's just stupid. La parentesi, la... Aia. La voce sta ripetendo lo stesso discorso che ha fatto anche l'altra volta, quindi mi senti proprio... Insomma, Linux invece, invece di... ha continuato ancora un pochettino e... ha sbloccato ancora un paio di aree, però per coerenza noi stiamo andando avanti sulla stessa... Uh, ho un diamante comune. Sì, anch'io l'ho trovato. Ma... C'è? Ho una domanda. I frammenti di anima cosa sono? Sono dei tipi di soldi? Tu hai già visto qualcosa? No, dovrebbe essere l'esperienza. Ah... di azzurri? Eh, non ho visto di che colori erano. Li ho presi. Sono azzurri, sono... Ok, io vado ad uccidere sti ragnetti perché ho bisogno di far andare... Sì, mi metto lo scudo. Uh, ho trovato un'altra carta. Ne ho una fotta di carta io. Davvero? Ma quindi si trovano così veramente a... come se non ci fossero domani. C'è una fotta. Ne ho un po'. Ok. Allora, la mia freccina mi sta dicendo di andare ancora dritto. Stiamo male come le cicce. nooo. Sì, perché dobbiamo andare avanti. Uh, una livella. Ok, quello che ho fatto io di resta, non c'è nessuno. Uh. Sì, non c'è nessuno. Sì, non c'è nessuno. Sì, non c'è nessuno. Aspetta. C'era ancora un regnettino? Sì. Beh, se vuoi curarti, tu stai bene. Sì, sto bene. Ah, aspetta, faccio il livello, va. Ora puoi coppeggiare un secondo oggetto consumabile. Yeee. Le bombe. Wow. Ma le voglio anch'io, le bombe. Io non ho preso le bombe. Pozione di pelle dura, la bomba o la scatola regalo. Tu cosa hai preso? Ho preso la scatola regalo. E? Basta. Sì, ma c'era qualcosa di scoso? Non l'ho ancora aperta perché puoi combinarle per avere ciccia più grossa. Ah, interessante. Ma invece a me le bombe interessano, quindi prendono le bombe. Ok, quindi con il digitale destro uso le bombe, con il digitale sinistro le pozioni. Le pozioni. È una di qua. Davvero? Perché a me segna qui. Ah già, perché tu non avevi ancora fatto quello. Eh sì, io sono in questa stampa indietro, adesso. Abbi pazienza, devo spammare un pochettino il potere perché devo fare la... la bomba. Oh, è il momento di provare una bomba. Forte. Ah, scusa. Te l'ho sbignato prima che tu potessi... e ti aspetto qua, eh. Va bene. Ma lì cambierà area o...? Eh sì, è un'altra cosa, ci sono altre cose da fare. Eh, quindi devo spammare... devo spammare un po' di poteri. Qua c'è un puntino rosso. Andiamo a uccidere il puntino rosso. Ce ne sono anche qua. Uh, qua ce ne sono tantissimi. Non posso saltare per avvitarmi le scale? Oh, sì invece. Waha. Oh, si spammare. Opps, 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 opps. Non riesce a spammare? De... le urne che ho il fogo non posso spammare. Oh, l'obiettivo sbloccato, Van Stratacticus. Interessante. L'avevi sbloccato anche tu? Cosa? Ho sbloccato un obiettivo. Eh, vieni a massacrare questi, va. Alla fine di quantità ne mancano ancora? Due. Ce l'hai piena? Usala. Quasi piena. Ah già, qua c'è Zar Borimir, che è morto. Giustamente. Qua c'è ancora gente. Ancora un po' di colpi, mi riempio la barra e mi incazzo. Basta? Sì. Wiii, wiii, quanta esperienza! Ok, adesso possiamo andare nel posto vero che ci interessa. Sì, qua sotto. Sepolcro dei dannati. Devo uccidere la gente senza morire. Devi uccidere la gente senza morire. C'è. Vabbè, ma fino adesso non siamo ancora morti. No, scusa, senza farmi colpire. Eh, f***. Già andata? Sì. Oh, muori o no? Oh no, anch'io dovevo farlo. Da scema, è vero. Le speed sono uguali per tutti. Eh, vabbè, pazienza. Cos'altro bisogna fare perché non mi ha guardato? Un altro corpo morto. Potrebbe essere Adrian? Uh, che retrocampione! Oh, potentissimo! Ho spazzato via! Oh, ho fatto un altro livello! Che livello sai scusa? Ehm, sei. Oh, ok. Non è vero, sono appena passata a sette. Oh, ok. Beh, era morto. Mh? Niente, mi sembrava morto sto scheletro e invece... Problemi? Vabbè, che si bastano un po'. Più che altro perché si teletrasportano. Mi hai cicciato la vita. Ah, non sono passato il livello. Questo circolo brutto. Livello 8. Tra parentesi, a me ha dato delle bombe diverse e adesso vado ad equipaggiarmele. Onda d'orpo. E li crippling per 6 secondi. Hai capito? Ah, li crippling per 6 secondi. Forte! Che schifo. Che cosa? Quina è tutta le gemme, ma che fanno abbastanza strifiro tutte e tre. Distruggi le urne funebri nel sepufra di Daman. Che vieni qua. No, vieni qua, vieni qua. No, no, vieni qua, vieni qua. Iscaglia d'un po' di prendersi sono queste ornicurne qua? queste qua vedi? ah voilà voilà ma vieni qua che c'è la chicca è un segreto questo qua infatti guardalo qua quanti soldi quanti soldi e poi qua c'è una ciccia un segreto ma nel senso che qua c'è quante... come hai fatto a scoprirlo? c'è una mappa intera come fai a non vederla ah ma sulla mappa era segnato anche prima che tu lo scoprissi? no 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 vedi la mappa poi devi saltarci dentro io l'ho vista l'altro è un po' più difficile da trovare se l'altro segreto di soldi schifosi un'altra falce no si? non devi più spaccare adesso si lo so ma dentro c'è la ciccia eeeh c'è la ciccia c'è la ciccia nooo forca miseria qua è pieno no? si? eeeh eeeh Vieni qui, mettete qui e stai cosi Ah, ho capito E qua c'è un'altra cigarette Forte Non ci sarei mai arrivata se non me l'avessi detto te No, perché sono un pro Apri sta cosa? L'ho aperto Ma stavo prendendo la ciccia Ma a me da solo più soli, sei di oro Sei più ricco adesso Qua c'hai un Beota, vero? Si No, parlaci Dov'è il Beota? Ah, qua Ho sentito prima che mi chiedeva aiuto E poi non l'ho più visto, aspetta eh Ah, è questo qua peso? No, questo qua è solo un'armatura No, dovrebbe essere un imbecille che poi trovi in città e ti fa da inventario Davvero? È quello della forziera Interessante perché non vedo un cazzo Eppure l'ho sentito io prima eh, giuro Prima mi ha detto Help, aiutami Dovrebbe essere qua Io l'ho trovato qua Non c'è proprio nessuno lì Proprio Qui Eh vabbè, oh Pazienza Adesso invece dobbiamo andare dall'altra Oh mio Dio Parla con il soldato scorta nel sepolcro dei dannati No no, mi dice di andare a farlo Eh ma va Eh ma non me lo faceva vedere Dovrebbe essere qui Elimina 30 mostri con il martello che non ho E elimina 70 mostri senza cibiridani E ma se non te lo fa vedere è una scitta Eh abbastanza Eh abbastanza Dove sei? Eh sono, arrivo Stavo, stavo mettendo il martello perché devo uccidere con il martello Non c'è il scello di una tomba No No Questo è un altro scello più familiare Il scello di fredda No, no Le palline, no Le palline, no Le palline, no Un martello Un altro corpo morto Could that be Adrian? Ho trovato una spada e un altro meteorite Uh, quanta roba Già Occhio Oh, ma tanto a me mi ha colpito Quindi vai tanto No Suppongo che i forzieri Una volta che hai scoperto la prima volta il segreto Mi danno poco e niente No, vediamo Però mi sacca Infatti, soldi Sì, sì Nove di oro mi ha dato E sei fermo? Che male Che male Che male Che male Che male Che male E vai E vai Sì, devo ammettere che non è malaccio nemmeno il Non sono tabelline le armi Però preferisco la falce tra le due Tutte le due l'hanno preso Ma che male fanno? C'è l'hai adesso? Sto malissimo, sto malissimo, stavolta non ha nemmeno parlato No, non ce l'ho, non ce l'ho, tu lo vedi? Io no, perché ce l'ho già Over here, help Over here, help, ti l'ha detto? Sì Ma e dov'è? Non c'è La X è qui Dove è la X? La X è qua E perché qua dovrebbe esserci il tipo? Eh, accidenti Prova ad andare un attimo in città, torna al castello Ok Lui dovrebbe essere qua Tutti i mostri e tutte le sfide sulla mappa corrente saranno resettati Eeeh, da spieghi Uffa Dove sei? Adesso sono al castello Vieni Dove dovrebbe essere? Qui No, infatti per me non c'è nessuno C'è solo il forzierone No, facciamo così Io vado a meno principale e fatti quella roba lì da sola Perché magari io ce l'ho già Allora non lo metto Ok Che noia Già Uffi Non ce la farò mai a farla senza farmi colpire Ma va più avanti secondo me Non c'è un po' Non ce la farò mai a farmi colpire Il risulta di fagli Non ce la farò mai a farmi colpire Una spada maledetta, dopo vado a vedere cosa fa Vieni qua, vieni qua, dove scappi? Yehi, un altro livello Il livello massimo della tua rabbia è aumentato Sì, ti diamo una ciccetta Diamante, onda d'urto, boomerang Boomerang, fico Un'altra nostra è che è un boomerang Boomerang Tu puoi restare in pace, fratello Sa, giucci di tutti Eee, un attimo Ci vuole un attimino, sono tanti Sicuramente cominciamo ad andare alla fine a vedere se c'è il tipo Rotola Eh sì, se non c'è, mi viene infatti la partita Rotola, rotola, rotola Rotola Eh, guarda, parlaci Vai, scricca e cicca, perché sennò ti ammazzano Ti dice che è scappato, che ci sono degli altri cosi, tutti incazzi Perché dici, come hai lasciato dei cacciatori da soli, imbecille E poi va, infine Ok, allora ti puoi riunire se vuoi Eh, mi devi invitare, bro Aspetta, a meno che io non posso fare sussurro e un'amicizia, bro H, no, devi invitarmi dopo Va bene, dammi solo un secondo che libero un attimo il territorio Ma fai start Vai all'accampamento Ti ho invitato? Sì Sono indacciti E adesso se viene l'accampamento Sì, no, come... Il castello, vorrei dire Sì, il castello, l'accampamento, ok Eh beh, cambia la faccenda, eh Dovesse avere quello che anch'io ho libero, che è... Sì, 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 infatti adesso c'è Ok Ok La tomba profanata? Allora, la tomba profanata Ok Io però prima mi metto a posto la ciccia che c'è qua, perché ho trovato della roba nuova Sì, anch'io Più che altro io dovevo vendere un po' di rumenta Perché vendi rumenta? Eh, cosa me ne faccio di 42 pistole e 7 spade? Oh, stocco Ah, comunque 13% Sai due pallini che non capivi? 13% Sì Sono la probabilità di critico e la moltiplicatoria di danni da critico Ah, interessante Va bene, di tutto A parte che è tutta a piscetta, no? Cioè abbiamo due armi colorate Ah, già c'ho il po' Il po' non anche No, c'ho il diamante Comune What? Buono No, c'ho il diamante Ciccia adesso, dai Meh No, ascolta no Ma perché devo vendere? Non c'ho ancora neanche metà inventario pieno Dai, per piacere Va bene Andiamo? Oh, santa madre Ok Oh mio Sono già lì, eh Sto arrivando anch'io Non ho guardato Aspetta, le cose 50 mostri con attacchi di stanza Due segreti 80 mostri senza usare pozioni 80 ma 50 mostri senza usare danni Oh Io vado di sfugile Eh, per forza Oh mio dio Veramente No, fugile Come on, Vicky Go get it Oh, martello Ah, aspetta Che c'è? It's a trap Vado? Vai It's a trap, eh Maledeto Beh No, non è it's a trap What did you get? What did you get? Un sacco di soldi E Riba dice Lo aggiungi Quanto salta lontano? Cioè Oh io Oh io Io sto registrando, amico Quindi lo aggiungi tu Oh Ok Tra parentesi Questo è uno dei due segreti Secondo te? Tanto Ti butta, certo Basta che schiacci La levetta di Destra No, non chiama Sì Questo era uno dei due segreti Molto bene Ma non ho ancora subito danni E sono solo cinque Benchè No, 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 no Stiamo registrando un po' di Victor Vandecippa Ha appena fatto un riferimento a Skyrim Proprio Cioè Spudoratissimo Sì 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 Lo rilassano cattivi Occhio Oh, maledetto Mi ha preso No, anche a me Vabbè, pazienza È caduto qualcosa Ma non ho capito dove è qua Il loot potrebbero farvi vedere un po' meglio Oh, sono caduto i soldi da sopra Davvero? Sì Dove? È qua Vabbè Oh Fa un bordello devastante quando spariamo in due Sì Ma infatti adesso appena finisco la... Qua c'è un altro segreto Appena finito Come ti hai fatto ad arrivare lì? Sono potente, ti ho detto che c'è un altro segreto Il potere dei Lulz Il potere della potenza Il potere della potenza Sì Che io ho e tu no Ah, chiaro, certo Ci sei? Il potere dei Lulz, certo No, qua non c'è niente Ok, ci sono Suppongo che sia di qua Ah, mi sono imbriccato Ma c'è gente arrabbiatissima Uh uh, può raccontare lalbo Oh, un caraconte lalbo Oh un caraconte lalbo Oh un caraconte lalbo Oh un caraconte lalbo Oh, anch'io l'ho trovato, lo stocco. Ah, qua, torniamo indietro. Sì, ma qua c'è una ciccia, vabbè, niente. C'è un tipo. Dov'è? Ah, è vero, abbiamo lasciato un sopravvissuto. Oh, quanta gente. Aia. Altra ciccia! Ah, ma è sempre lui. Quindi merito. Sì, abbastanza, è carino. Sì, bella. Cosa ripa? Guardo se c'ho i dinghi sulla poste pay. Aspetta che devo abbassare un po' perché mi sta... Skype non è che non lo sento, di più. Di meno. Le voci un po' più basse, l'ambiente ancora un po' perché... Ah. Sì che si possono rompere quelle con il colpo. Guarda. Ma non abbassa niente. Nulls. Ah, c'ho, 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 c'ho due punti destino in più. L'assassino. Ottieni 200 salute su un'uccisione. Ogni 15 secondi. Oh. Una cesta? No, prendo l'assassino. Prendi il sassino, il sassino. Eh sì, ma... Posso metterle, ma... Sì, sì. 20 euro. La sicurezza dovrei autorizzare nuovamente l'acquisto tramite Paypal. L'ho fatto l'altro giorno, cazzo. Eh, ma metti che... Tosarella si è ufficialmente lamentata che... Che non dobbiamo dire parolacce mentre registra. Eh, ma togli il bello. Eh, lo spiegaggialo tu. Allora. Sami Linux, allora. Forza coraggio. Eh, se non hai potuto spaccarmi timpani... Evito anche di dire parolacce. Eh, non vale. Non è vero. Sostituisci i liconi, lo lo lo. Al posto dei beep, lo lo lo. Potremmo farlo? Ma porco di... Lo lo lo. Ehi, ehi. Ma lo lo lo. Ok, fatto. Non distrugge sta roba. Eh, vabbè, non sarà distruggibile. No, deve distruggere tutto. No, di nuovo sui giardini e radio. Oh, mio Dio. 3 giga e mezzo da scaricare. Scariciamo 3 giga e mezzo. Cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare. Dove dobbiamo andare? Ah, ok, da giù. Eh, di... No, si capisce una boccia sulla mappa. Di qua. Eh sì, ma c'è la lingua girata... ...tu quell'in. Anche i mostri che si chiamano il re dimenticato, sono un attimo... E che si è dimenticato? notte chicane scusate va bene torniamo dalla regina sguinzia ci devi far entrare no fa sbatta signora regina ci farebbe entrare per favore no ho il mio permesso sarà meglio che il tuo permesso se non ti ammazza la famiglia oh ma c'è tutto il ciccio questo qui voglio avidità mi sono vibrati 5 anche a me devo ammetterlo ecco smettila non ho nessun soldo ripa gli utenti con le cuffie scaravage non mi hai fatto ascoltare minimamente quello che diceva la regina potrebbe avermi detto no ti odio devi morire peccato non ho ancora provato lo stocco tu l'hai provato? no vabbè andiamo entra nella cripta reale distruggi le urne funerarie no ho sbagliato elimina 5 mostre con un singolo attacco con un potere demoniaco 3 spiriti famelici sveglia il morto e il requieto trova i segreti e elimina 50 mostre in 80 secondi ce la possiamo fare io ho fiducia in noi questo è difficile eh eccolo eh vuoi fargli vedere che c'è la più grossa? si questi sono già più duri in effetti sveglialo sveglialo? sveglialo voglio svegliarlo anch'io ma a me non me l'ha dato la vita è brutta ah no me l'ha dato lororo e vai cosa hai quella buccia lì che tiri? e le bombe ah ma perché ti sprechi le bombe così? perchè volevo fare la missione di usare di ucciderne 5 contemporaneamente ma ce ne erano 5 lì? e ce ne erano 22 ah io devo cambiare arma manca un minuto e siamo indietrissimo eh non abbiamo uccisi 50 ma nemmeno piangere ma chi se ne frega ma è una sfida l'ultima l'ultima la faremo quando saremo più grossi di livello è una sfida mi serve un posto dove c'è tanta gente dai venite tutti qua su tutti vicini sono qui tutti vicini qui qua ce ne sono tantissimi se vuoi eh voilà sto raccogliendo soldi se mi lasci raccogliere i miei soldi poi arrivo anche eh vabbè è chiaro legit guarda lì eh uuuuuh non hanno uccisi nessuno ma non ne sono morti nessuno eh lo so meglio così ok ce l'abbiamo fatta a farne 120 guarda quant'è tanto si può sparire beh ci credo ti ho tirato una buccia paura e vai ho fatto anche ho già fatto da un po' eh ciccia e io no scusami eh dagli ha redimenticato dagliene oh ma questo qua fa muovere piano si aspetta che devo fare il passaggio di 2 punti destino l'ascino il vescovo o la ciccia io io prendo l'assassino io prendo il vescovo ma il vescovo non è che mi piace tanto solo perchè è un vescovo o per il vescovo? no perchè non sarà un brain poi ci hanno un capello stiroso da questi un fucile efficiente come hai fatto un fucile efficiente? funziona bene i tempi di ricarica si riducono al 24% non c'è niente dove sei andata la proposta se non mi da poi uuu brutto non morto uuu che bruita che ho messerato oh porca paletta che dolore ci sono delle strisce di sangue una carta da forza figlia eh stavo per tirare una broida nooo mi spiace fucile l'arriete ah beh non è male il fucile efficiente oh c'è uno spiritoello di nuovo e caccia il pistolone non mi piace eh ma è più comodo non ti sto accorgendo sì anche me stai un po' male io no perché sei una pipa lo 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 devi avvertire così faccio il filtro eh pipa non è una parola alta lo 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 è un aggettivo sono un filtro efficiente per di più fa solo 2 secondi di ritardo ti trovo guarda come sbarillucico sbarillucico come una non lo dico perchè sennò poi isa mi filtra aspetta aspetta tu dillo io faccio lo 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 basta cosi lo è tanto vale non dirlo bah Syrian eeeeeeeh oh cos'era quella roba di? non lo so un boomerang a e vero ah tu hai messo il boomerang? L'ho messo io? Per sbaglio? Può dare. Io c'ho questo, lo scudo magico potente. Buttano Boomerang a caso. Ok. Altra ciccia! Puoi evitare di buttarmela in culo gioco? No. L'unica cosa che non mi piace è come si cambia l'anoma. Eh sì, quello non è tanto comodo in effetti. Cos'è ancora due morti? Perché è viola questa? Perché ricarica danno doppio. Ah. Prendiamo? Tanto ci sarà qualcosa. Vai. Tra parentesi questi sono esattamente i santuari di diavolo. Sì, ma li metti in controllo quando vuoi tu. Bloccato. Paolo! Guarda che pignatta! Vado che pignatta! Ma perché deve cantare sta voce? Lololololololololololololololololololololololololololololololo... Eh, è una roba del genere! Serio? No, beh, non proprio quello, ma non è che va proprio tanto lontano. Sì, sì. Non mi spiace sto targeting intelligente? Ma io devo ammettere che ci ho dovuto far prendere un attimo l'abitudine. Però adesso perché... Oh, livella. Ora ho perpeggiare più carte del destino. Oh, cos'è questa cosa qui? Un fucile fulminatore! Quando aveva il fucile fu sturminatore. Sturminatore. Vai di fucile sturminatore. Vai di fucile sturminatore. Cosa fa? Il bersaglio unico. Tiene premuto il tasto per continuare l'attacco. Quindi fa più, 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 più. E i nemici colpiti da questo attacco diventano fulminati. Hai capito? Diventano e sbroccano di velozà. Non avrei mai detto che un fucile fulminatore fulminava la gente. Fulmine globulare. Ah, vabbè, colpisce a me e i miei amici, ma fa lo stesso. Ehi! Ci sono anch'io tra i tuoi amici. Capisci? Eh, sì, abbastanza. Eh, sto abruida. Andiamo, siamo lì. No, no, andiamo. Mettiamo il fucile fulminind. Eh, va bene. Fulminind! Fallo e poi andiamo. Fulminind! Ehi! Oh, mamma mia. Mi sembra... Aia, le orecchie. Mi sembra il... Occhio non incrociare i flussi, eh, perché non vorrei mai. Ma funziona bene, no? E' potente. Oh, che male che mi ha fatto il mio fucile fulminante. Mi ha fatto malerrimo. Via, 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 Isabel, via, di lì! Perché? Perché quando esplode fa un male devastante. Una falce avveda. Un'altra, al posto. C'è una falce avveda. Cos'è questo buco? Io vado. Non posso. Sarà un segreto? Ah, aspetta. Oic, oic! eh si ciccio patata eh non riesco a saltare su sono impedita e adesso bordello che male che fa meglio me mi qui c'è il cesto ho trovato l'alchimista ah io ho trovato l'ambrosia fucile il tormento cosa fa il tormento i danni critici aumentano del 49% la probabilità di colpo critico aumenta del 16% non male ok andiamo aspetta un attimo no io ho un buco in più ho messo avdata ah l'ho messo perchè eh c'è già v5 danni a distanza provoca un'esplosione in caso di devastazione vediamo eh potente eh e adesso potrei andare a eh dobbiamo finire il giro credo c'è qualcosa laggiù e il posto dove siamo stati no c'è un perillo giallo un fucile zelante l'assassino giallo è potente si no io sono circondata dagli scheletri ma tu vai tranquillo uh ma è potentissimo anche faccio lo sparatore si vieni a sparare allora eeeh arrivo non mi stressare che poi mi si stressa qua il personaggio siiii poi lo sa uccia uccia adesso ho sparato di nuovo quella merda mi faccio di nuovo male che problema c'è che problema c'è con questo piripiripiripiu con questo scusa piripiripiripiu sembrava più che no? assolutamente uuuh che palle questi che si teletrasportano uuuh che palle questi che si teletrasportano a farlo a livella livello 10 ma tu non hai droppato l'arma d'oro? no io questa qua c'ho l'arma d'oro madonna se si riempie velocemente uuuh questa volta prendo la scatola e la regalo sto un po' male che pignatta che mi ha tirato e quando abbiamo lasciato qui indietro eh? dai questo è l'ultimo perillo eh? spocco dell'inquisito spada dell'ammazza spettri il duellante spada dell'ammazza spettri spetta eh? si si tanto no che schifo che schifo che schifo oh Victor realises the choice he made just minutes ago was meaningless as most choices in life often are ma quant'è simpatica da una 10 storicina e c'è una roba circolare cioè dobbiamo perdono dobbiamo andare di lì dove stai andando tu perchè io non c'ho della roba esplorata di qua si anch'io tra parentesi abbiamo trovato soltanto un segreto su tre beh ciccia puoi anche cercarli tu in segreti eh? nè tu sei più breve dove vai? non lo so qui ha un segreto? ah con quell'arma lì se timi gli attacchi giusti pare che faccia più danno cioè si ricarichi più veloce ma aspetta un attimo doppio danno no eh? tardi ok vado a prendere il doppio danno eh? oh è sparito oh merda ce n'è un altro di qua eh si c'è altro eh? ma io dovrei ragno demoniaco venga oh spattarriamo eh? vado a farmi un bagno non posso eh beh tutta lì? eh deve esserci un ingresso di... eh infatti segreti due di tre eh aspetta ho trovato un'arma... wow wow uh martellazzo giallo che potrei anche mettere... al posto di quello quindi con... x ok sono martello più tardi adesso eh? ah vivo meglio eh sarà... come si sale di qua? sali sali dove sei? ma non mi aspetti! ma come magari c'è un segreto eh? l'Ulz no l'Ulz no l'Ulz no l'Ulz no ma è di lì? sei sicura? sto perché stai di nuovo tornando in... no qua io non ce l'ho... ehm esplorato ma sei tornando in mezzo secondo me si può saltare giù da qua da qualche parte e invece? e invece? e invece? e invece di qua? e invece è una birilla ma uh e qua il terzo segreto ok e un sacco di cincia mmm going in the wrong direction, victim miraculously arrived at the entrance to the goal of section being a good spawn however Victor decided to stay a little longer and have some more fun with his friend in the world oh come on, let's leave fuck this monster in particular andiamo prima a rucidere sti due stupidini qua che rimangono o? no ho trovato un sangue di vampiro wow oh ma perché dovete respawnare così subito? oh cosa fa il sangue di vampiro? oh 50% di fur... no città 40 mostri con stocco trovi segreti 8 ballerini non morti 4 raccoglitori di sporo 80 mostri senza usare pozioni e poteri demonici aspetta fammi mettere lo stocco vabbè puoi anche entrare e metterlo dopo eh? no il cos'facchio adesso vai c'ho stocchi che fanno cagare i miei stocchi uh io non ho uno verde non posso metterlo al posto del fulminatore cioè capisci? eh mi verrebbe da dire oh Oh, quanta ciccia! Un raccogliettore di spiriti. Oh mio dio che brutto che è! Un raccogliettore di spiriti. Mia- Aiauu! Che ammazzo! Aspetta ma qua, scusa? Eh, qua c'era un... secondo me c'è un segreto. No, non c'è un segreto ma c'è un forze rozzo. It's a trap! Eh, ma dai. Eccola lì. Sapevamo che sarebbe successo prima o poi. Secondo il boss non fa un belino. Dammi la ciccia, dammi la ciccia! No, no, era un segreto. Un segreto? Sì. Ok. Un segreto molto segreto, devo dire. Estremamente segretissimo. Oh che noiosi che sono questi, Santa Maria di Dio! Sì. Non devi usare pozze! Eh, ma questo non conta come pozze! Eh, non lo so. Non conta come pozze! Sì. Sì, ma che è tutto. Sì. Oh, realmente. Eh, adesso non lo so, ma riiiiite tutti! Oh, ma riuiuiuiuiuiuiuiuiuiu... fammi cambiare sta roba va si lo stocco lo cambierò anch'io perchè fa schifo poi ripeto se vuoi ti insegniamo a giocare che sarei uno dei peggio nabi l'hai pieno di tombe quindi secondo me se può andare ma non c'ho voglia di cercare piu 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 lo sai vero che una roba lì non fa danno disturbisce però se questa roba qua rincoglionisce però se sei entrato ti ha fatto un po' male di me no? a me no? si cioè si un pochino no segreti due di tre ah è uno segreti da segreti sono veramente segretissimi ma che se vuoi ancora vivo? ma arriva una pazza no un sangue vivo in pieno stocco il sanguisuga no ma vai in eh 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 lo 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 in beline uiiiiii 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 mi sa che è un'arma troppo sbattimento questo qua però cosa c'è? sparava pupù? ah che male tutti quelli li assieme fanno malissimo no mi fa male mi fa male mi fa male mi fa male perché non li li rilassero e rilassero? cosa li rilassero in questa città? le parti sono formate un strumento sulle g기 con altre patrani e che male subito mi fai 多少 patrani mi fai la patrani o di la patrani Un fucile Piallo Il tormento Adesso è anche passato a livello Vediamo che quello di si prende una pignata Adesso che non fa bene A nessuno Magari lo uccidiamo anche Aspetta che la livello va Ok Posso equipaggiare carte più potenti Ok adesso posso ricominciare ad usare il potere demoniaco La vecchia non la voglio Però se la scatola è bianca te la voglio anche te ne ha Allora cosa potremmo mettere Provemmo sta combina qua va Dove è più di 7% di critico Ok E poi però che alma mettiamo C'è un'altra trappola galattica laggiù in fondo secondo me Eh se so che hanno un attimo un'arma Che mi dia qualità di critico Sì però non farò un cazzo di danno Infatti Ok bisogna iniziare a spaccare le armi bianche Eccolo qua La probabilità di critico è aumentata del 19% Come faccio ad avere... Ah ma meteorite comuni oltretutto non sono tutti uguali Eh no quelle... Sono più potenti e meno potenti dipende un po' Ok E va bene spacchiamo tutto Perché mi sembra normale Suona bene Cosa? Mi metto solo un po' giù la sedia Vala tossico Eh vabbè No mi sa che ci siamo persi Non era questo il posto dove dovevamo andare Ok Dice avanti Sì lo so che dice avanti Ma abbiamo ancora un segreto da scoprire Eh dispiace Scopriremo poi No no guarda Cosa vuol dire guarda Secondo me è solo qui Dici che qui nel corridoio? No qui dove sono io Sono tornata un attimo indietro Sì è solo qui Ah che noiosa Ma l'hai trovato? Sì sì Poi hai fatto scendere Ah ma è la stessa cosa Io prego Perché hanno tutti delle stelline? Non capisco dove sei sceso Vai più avanti Vai più avanti Vai più avanti d'oltre al cancello La danza degli stelle Oltre al cancello Sto andando in cura gioco Ha cominciato a ballare il ganggan style Gli scheletri stanno ballando il ganggan style Sì se mi spieghi dove scendere però mi fa anche un piacere Vai più avanti C'è un cancello Ma avanti da che parte? Sto andando a destra a sinistra Non Allora torna su Ok ho visto Non potevi Ebbene più avanti Vabbè lasciamo perdere Danza contagiosa Vedi? Cavallo invisibile Stanno ballando Lo vedi anche tu o? Stanno a farne anche male Anche tu Noo anch'io ballo adesso Sei contagiato Uccidiamo ste robe Grazie Una pozza blu Era data comunque Uccidi 8 ballerini 7 su 8 sono Tu? Eh io l'ho fatta Eh vabbè Che te devo dire Completa tutti i segreti Quattro è il primo boss? Il primo boss Il primo boss Il gioco non è invisibile Ahia perché Perché picchi subito Dovevo spagare quella roba lì Che cosa? Ah ok Ok Va bene, ok, mi sento un briccaato. E' diventato un vamperetto. Io faccio anche lasciarvi, va tanto. Ok, ok. Ci sentiamo poi. Ok, ciao. Ciao, Ur. Ciao, ciao. Victor, join me, e possiamo prenderlo per noi. Ok, ciao. Purka. Purka. We always knew this could happen, old friend. That we become monsters ourselves. That we fall to the darkness. Rest in peace, brother. Ma qua c'è un teletransportatore e un... Allora, scusa, c'è un teletransportatore qua e questo qua cos'è, scusa? Porto al castello. Ah, ok. Teletransportatore credo che sia quello che ci porta indietro. Questo qui? Eh. Ah, però ci dice andare dall'altra. Si, andiamo dall'altra, tanto. Allora... The survivors are gathered around the war table. There's tension in the air. There's also fear. There are not enough guards to hold the castle. Irene has been missing for a while now. And they think that I've left them for good. The queen still insists on continuing the fight. She asks them to do the impossible. What they need now is a sliver of hope. I've changed my mind. I'll stay. At last you see. We will overcome the invasion. This is not an invasion. I now know what is happening here. This city is a trap. A trap for hunters. And what would you do? Spring the trap. I think it's a trap. A crazy decision, Victor! A crazy decision, Victor! Ok, ragazzi! Ditto, it's all'oro! Già. Direi che potremmo concludere qui la seconda parte del gameplay di Victor Blahn. E lascio a voi le conclusioni. Alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao ciao! Grazie.